L'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi. Io ti dico, buttati a capofitto, trovati qualcuno che ami alla follia e che ti ami alla stessa maniera. Come trovarlo? Dimentica il cervello e ascolta il cuore. La verità è che non ha senso vivere se manca questo. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente equivale a non vivere. Ma devi tentare. Perché se non hai tentato, non hai mai vissuto. Perché se non hai tentato, non hai vissuto.